buongiornissimo caffè buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlogmas allora allora questo è un video spesa io c'ho sempre stima gli oncioni giganti ho messo su al volo il franzo perché è tardi sotto questo qua che praticamente striffa e quindi ogni volta ha un dramma scusate bene questo è in realtà un vestito che ho adibito a gonna e sopra ci ho messo il maioncione comunque veniamo a euro spin 101 euro e 51 e vi faccio vedere la prima cosa pagata 16 15 qualcosa un phon perché io tengo sempre un po di riserva e ne ho bruciato un altro quindi ho preso questo adesso voglio vedere un attimo com'è secondo me anche esteticamente molto carino per il bagno di fatti metterei questo a posto di quello che ho perché quello che ho ha dei colori un po troppo sgargianti c'ha anche il coso proprio mi piace oro rosa e nero carino per il prezzo che aveva devo dire comunque molto molto carino guarda bello vero bene andiamo avanti ho preso due buste di tavolo nero accendi un po per favore questa si no allora aprile due buste di tavolo nero ho preso il pane quello già affettato comodo le taccole i funghi questi qua che sono i pleurotus sono buonissimi l'altra volta ci ho fatto il risotto per il mamma come era il risotto squisito ho messo troppo basso vabbè mandarini una sfoglia che me la fa per quando va da lavoro magari l'ultima io l'ho fatta peperoni tono e cipolla e com'era squisita pomodori un pacco di cretere integrali poi ho preso le patatine novelle perché queste qua io molto furbamente quando faccio le vellutate magari ce ne metto due piccoline oppure le faccio con la buccia e tutto intrigitrice ad aria o forno per il cui presente marito ho preso un po di banale questa è la mozzarella della crai hai preso proprio solo la mozzarella poi sparavamo 2 euro e 50 spicci e monetine invece aveva 2 euro e 70 quindi niente quando scade questa bene l'hai pagata 2 euro 69 la abbiamo preso un po di affettato che era tutto in offerta nello specifico ho preso i porri questi qua sono i cuori di cuori di porri anziché prendere la lavanda spaziale io ho preso due di queste barrette che sono buonissime ma come tutte le cose cominciano a darmi la nausea dopo un po scendono le ma guardate quanto sono belli questi funghi pioppini abbiamo terminato i dischetti struccanti ma soprattutto costavano 99 centesimi carne quindi poi abbiamo un po di arista le salsicce che ogni settimana compriamo perché ogni settimana che mangiamo non ricordo capocollo una confezione di patate a partita e i mitici sono il male posso dirlo sono il male ma sono così buoni fatti in ripresa d'aria per il posto libero fiori di zucca ripieni mozzarella e alici ma secondo me bomba secondo me poi ho preso due avocado buonissimi le arance per farmi qualche spremuta che magari non la mattina perché mi accedisce la giornata ma dal poveriggio e poi ricottine amo essere biologico ho preso tre confezioni di questo un po di scorta perché ci faccio di tutto anche i sughi le varie preparazioni in pratica senza lattosio e la fecchi la delgia poi un po di barattolame e quindi lenticchie per due ceci sempre per due e un fungo champignon abbiamo finito tutto qua in cinque minuti che abbiamo detto tutto perfetto ho fatto una spesa molto rapida si molto rapidissimo però non abbiamo speso tanto alla fine no mi sembra sui 100 euro spina 105 euro tutta la settimana così tanta roba ce l'avevamo già scusate se nel frattempo cucino vi faccio vedere anche una cosa che ho preso pittarello pittarello arriva pittare allora sono stata di nuovo da pittarello perché perché l'altra volta mi ero innamorata della sezione stivali pagati 45 euro 44 e 99 mi sono innamorata della sezione stivali e soprattutto di un particolare colore di cuoio che ridà il cuoio sono bellissimi guardate che belli cioè sono spettacolari questo colore secondo me sta benissimo per esempio anche con l'outfit di oggi cioè ci stanno da dio e perché oggi per esempio ho queste ma queste secondo me nere non ci stanno aiuto ce la posso fare non ci stanno assolutamente però insomma ho messo queste perché quelle col tacco non mandavano e allora ho pensato una via di mezzo che secondo me poi so pure sono morbidissimi sotto ma sono caldi cioè ci hanno avete la pellicetta dentro come tutti gli si varia non è che sono speciali però non lo so mi sono piaciuti e devo dire che sono veramente contenta assolutamente contenta felice ripagata della vita e basta adesso in velocità mettiamo a posto ok mettiamo a posto appoggio qua poi e niente ragazze ragazzi se mio marito ci sta togliendo l'acqua all'asciugatrice quindi adesso tornerà senza siluro e noi ci vediamo ovviamente domani perché lo sapete che facciamo un video al giorno lo sanno che facciamo un video al giorno se ne accorgeranno se ne accorgeranno i video spese ovviamente fanno parte dei video del vlogmas della programmazione settimanale ma io veramente siamo a parte che mi manca un pezzo di testa a questo punto io scusate ma io divento nana ecco qua sono inquadrato ci vediamo domani nel prossimo video prossimo video e non mancate vlogmas che c'è? perché voi non vedete ma io vedevo l'exa perché loro non mi vedono? perché non vedono l'espressione tua cara qua l'espressione mia l'espressione è tutto isprezzo va www.espressione mia ciao 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 Grazie a tutti.